ciao ciao eccoci ancora qui per questo pomeriggio dedicato al punch needle perché vi volevo far vedere poi vi saluto definitivamente per quanto riguarda la giornata e vi volevo far vedere il nostro davanti diciamo del lavoro finora abbiamo lavorato sul retro questo pomeriggio appunto di punch needle questo è l'effetto che sta venendo appunto fuori dal dritto io sono andata un pochino avanti sul 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 mandala e sto realizzando appunto anche gli altri elementi ma quello che ho diciamo riempito ed è questo che mi interessava da farvi vedere si presenta in questo modo questa è appunto la prima riga il bordo che ho eseguito con il cotone marrone appunto con il cable con il cotone cable numero 6 marrone guardate anche la stoffa che appunto a trama fitta anche quello è un elemento importante e poi ho iniziato a riempire quindi con questo effetto naturalmente di riempimento il bordo appunto del mandala con il filato sempre cable numero 5 e numero 6 in questo caso appunto rosa che è questo qui sono molto contenta di farvi vedere anche appunto la grandezza del filato quindi sta venendo secondo me molto molto carino anche perché naturalmente non è finita qui e vi volevo far vedere anche com'è appunto alto il punto qua ci passa diciamo appunto ci passa diciamo a livello di altezza la punta del dito vedete e quindi viene diciamo bello sollevato voglio dire proprio un effetto spugna vi ricordo che per ottenere ciao non so se c'è qualcuno vedo in linea fammi sapere se hai dei dubbi delle domande in particolare ma lasciami un commento mi piace così io capisco e che ci possiamo tenere in contatto soprattutto se hai dei dubbi delle domande e sono qui perché questo è un pomeriggio didattico legato appunto al punch needle e stavo dicendo questo effetto appunto spugnoso proprio da ago spugna è dato da l'alte da questa altezza di ago cioè abbiamo fissato la rondellina fra appunto il 2 e il 6 quindi con questa altezza appunto di ago viene fuori questo questo questa altezza appunto di effetto pelliccia di effetto spugna come già dicevo in altre dirette l'altezza della spugna può naturalmente dell'effetto spugna dell'effetto pelliccioso può appunto variare a seconda della lunghezza del mio ago quindi è ovvio che se io vado a magari girare la rondellina e a stabilire che mi voglio fermare su un 12 l'ago chiaramente sale per cui questo punto automaticamente sale la bellezza del lago spugna è che possiamo dare una non soltanto possiamo realizzare più di un punto perché questo effetto spugna è soltanto uno dei punti che possiamo realizzare appunto con il nostro lago spugna ma possiamo dare addirittura delle altezze diverse al nostro effetto pelliccia quindi andare a realizzare veramente degli effetti tappeto stavo dicendo per chi si collega adesso che sto facendo vedere il dritto del lavoro che abbiamo iniziato ad eseguire potete seguire le altre dirette di oggi in questa giornata tutta dedicata al punch needle se avete delle domande fatele pure fatemi sapere che siete collegati lasciateci anche solo un saluto un mi piace o comunque una domanda soprattutto ci piacciono le domande perché appunto ci piace cercare insieme delle risposte dato che so che molti di noi molti di noi rinunciano all'utilizzo del lago spugna perché incontrano alcune problematiche però io dico vi dico ciao e vi dico è talmente bello risultato anche perché può essere utilizzato anche come therapy come terapia diciamo come antistress la lavorazione con lago spugna che queste problematiche sono facilmente superabili perché non so se conoscete l'art therapy la coloritura ad esempio i libri da colorare per adulti sono tutte tecniche estremamente rilassanti e molto 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 adatte diciamo appunto al relax e sicuramente la lavorazione con lago spugna e con lago magico o chiaramente parliamo di punch needle si chiama anche ago spugna e ago magico quindi lo potete trovare con questi tre nomi rientra sicuramente in questo tipo appunto di tecnica niente vi saluto questo appunto il dritto del nostro lavoro altra cosa che vi volevo dire ma la diremo ancora perché chiaramente parleremo ancora di punch needle altra cosa che vi volevo dire è che quando andiamo a lavorare dobbiamo seguire sempre questa direzione cioè partiamo ad esempio partiamo da destra verso sinistra cioè scusate da sinistra verso destra cioè non torniamo indietro vi dico quello di tornare indietro sicuramente un modo per andare a dare dei problemi al vostro lavoro girate sempre il telaio di lavorazione e gira e lasciate diciamo lago sempre inserito e ruotate l'oggetto quindi la stoffa sul telaio che state lavorando non girate troppo lago perché vi esce il filo la cosa migliore è far ruotare il telaio lasciando lago inserito questo è un'altra diciamo un altro piccolo grande accorgimento per lavorare a punch needle evitando il più possibile che vi si disfilsi il filo durante la lavorazione ricordo poi per chi si collega adesso che il filo quando andate a lavorare il punch needle non si fissa né all'inizio né alla fine non passa sotto i punti dal retro come si fa col punto croce quindi poi dovrete andare a fissare il filo in un secondo momento con della telina termoadesiva ad esempio o con della colla quindi non vi preoccupate di questo aspetto perché se vi si disfa il filo soprattutto all'inizio è normale perché il filo alla fine non è fissato io con questo vi saluto vi do appuntamento alle prossime dirette di Bricomaghi ciao buon pomeriggio